Leo, cosa ti ha spinto a prendere parte a questo programma innanzitutto, visto che sei un volto così popolare? Ma cosa mi ha spinto? Bisogna vincere le... tengo io così non fatichi, bisogna vincere le scommesse con noi stessi, no? Io ho fatto il cantante mascherato, grazie a Dio ho vinto cantando, ho fatto 30 cose come conduzione, ho fatto il comico, faccio cabaret, faccio teatro, che mi mancava? Il ballo. Ma come te la calcio? Allora, quando sono arrivato ero terrorizzato, ho detto no, ho sbagliato, ma che sto facendo, ho tre giorni, voglio andare via, e invece grazie a Anastasia, alla mia maestra, sono fortissime. Ma a casa? A casa? Cosa ti hanno detto? Io vivo da solo, che mi hanno detto? Se vuoi domani bussare vicino e te lo dico. No, mia figlia, mia figlia si diverte, è contenta, dice mi raccomando papà, è contenta, però non... Non c'è, non è che stiamo facendo una cosa divertente. Di che genere? Mi ricordo di un po' di un po' di un po'. Io gli devo bocciare, io gli farò credere che tornerò con lei, cioè tornerò, diventerò il suo compagno e basta, gli dirò se è bellissima, tutti i complimenti, lei cadrà in questo tranello e poi alla fine gli dici ho scherzato, gli dirò scherzato, alzerò la coppa e andrò a casa. Va bene? Ma dopo ballando, mi piacerebbe il mio lavoro, quello che so fare, ma adesso non ci penso, adesso bisogna... Cioè Peron, hai fatto intervista a Peron? No. Peron prima mi ha detto, io e Simona Ventura vinciamo, e gli ho detto, non devi crederci subito, ok? Poi ti chiedo andare da Peron che sta alla guardia. E... Grazie a tutti